Last but not least è il titolo del suo primo prodotto discografico che uscirà ufficialmente a fine gennaio questa sera ci proporrà in best in edita due brani contenuti nel suo album e arrangiati in versioni live con Last but not least e Global Tematic Chronologics ecco a voi Robert Snoop Grazie 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 Grazie